Però non ci sono solo gli umani, ci sono anche i nostri animali, domestici. Quanti veterinari ci sono? Avevo saputo? 4-5 veterinari. Ragazzi, incominciava ad avere anche veterinari, tanta roba. E quindi grazie anche di questo e diciamo che uno dei, anzi il primo, che ci ha dato veramente grande fiducia è un carissimo amico, medico, cardiologo e veterinario, è Eyad Abudasate. Grazie, intanto. Medico, cardiologo e veterinario. Allora, ovviamente io mi sento anche privilegiato perché sono l'unico medico che impara sulle persone applica sui cani, quindi penso che sia un grande privilegio. Perché S-Drive ho iniziato a utilizzarlo prima nelle persone e poi quando è uscito ho iniziato a utilizzarlo negli animali e effettivamente, diciamo che, vi racconto una cosa, diciamo, una volta una notte, stavo facendo la notte in clinica, mi portano, arriva alle 4 ore di mattina, arriva una persona con un cane, lo mette sul tavolo, mi prende di qua, cioè questo cane era morto, mi prende da qua e mi dice, tu che sei di Nazareth fai qualche cosa, no? Allora io ovviamente adesso dopo S-Drive, dicono, arrivano in clinica per chiedere del dottore di Nazareth, quindi mi permetti di dire una cosa, poi ti lascio la parola. Tra poco, dopo la sua relazione, ci sarà l'ultima relazione. Abbiamo deciso di lavorare a un progetto importante. L'Accademia sarà integrata su quello che serve, a mio avviso, a un professionista per comunicare, fare marketing, divulgare al meglio quello che sta facendo, perché se no non troviamo le parole giuste per comunicare quello che stiamo facendo dentro al laboratorio e con il paziente, con le persone, da quello che stiamo facendo e quanto questo sia importante, arriviamo a poche persone. Invece abbiamo deciso di introdurre nella formazione un modulo su marketing, comunicazione e da un punto di vista imprenditoriale. Vi piace questo? Quindi la relazione dopo sarà proprio mirata a questo. Allora, il metodo che utilizziamo, che al mio parere è S-Drive estremamente utile, è la medicina integrativa funzionale che considera l'organismo come unica entità funzionale, come un network di lavoro e con tanti sistemi, tutte interconnesse tra di loro. Questo è il più tradizionale delle divisioni dei sistemi della medicina funzionale. Divide l'organismo in un sistema gastrointestinale, comunicazione, distribuzione, cardiocircolatorio, detox, energetico, ovviamente energetico anche il substrato, il metocondrio, quindi tutto quello che dipende da questa sfera. è l'integrità strutturale. Il sistema immunitario sta al centro di tutto. Ovviamente S-Drive, purtroppo questa pagina in veterinaria non c'è, nel report di veterinaria non c'è, però funziona nella stessa maniera. Alla fine noi abbiamo un sistema, tanti sistemi che girano intorno al sistema immunitario. Quindi direi che questa forse è la pagina più importante al mio parere del report, insieme a quella precedente. Quindi noi abbiamo questo sistema immunitario che deve essere sempre in equilibrio. Ovviamente il sistema immunitario agisce, agisce, agisce in una, diciamo, manda certe cellule per agire a secondo il tipo di insulto che arriva. E il suo, diciamo, lui funziona perché dovrebbe fare la restituzione di integrum, riportare il tutto in equilibrio. Quindi dovrebbe, né deve essere troppo, né deve essere troppo poco. Il tutto, e questo è veramente negli ultimi anni, abbiamo capito che il microbiota che sta a livello intestinale e praticamente funge un po' da Ministero della Difesa. Quindi lui è informato di tutto quello che succede a livello immunitario. Cosa succede? Se io ho un problema locale, se quello che c'è a livello locale, a livello cotaneo, diciamo, se a livello cotaneo riescono a risolvere il problema, bene. Altrimenti quando si perpetuano le malattie, soprattutto l'infiammazione, il microbiota intestinale è quello che prende il sopravvento, cioè funge veramente da Ministero della Difesa. Cioè lui decide e lui perpetua l'infiammazione. Perché è molto importante questo? Questi sono ovviamente nuove approcci e soprattutto quando si parla di assi di interesse. Quindi si parla di assi intestino cute, si parla di assi intestino cervello, intestino tiroide, intestino articolazioni. Lo stesso in medicina veterinaria iniziamo ad avere anche questo tipo di approccio da pochissimo, diciamo, anche a livello proprio molto alimentare. Però è molto importante come ragioniamo per poter utilizzare, diciamo, tutto questo sistema a favore nostro, nei pazienti cronici. Allora, Elsa, un cane che arriva in clinica con la fibrillazione atriale, quindi scompensata. Cosa è la fibrillazione atriale? Vuol dire che la frequenza diventa molto alta al punto che il paziente ha uno scompenso. Quindi nella fase acuta aveva tutti i sintomi dell'insufficienza cardiaca. Iniziamo il trattamento e poi la defibrillazione. Con la defibrillazione si può fare meccanica, si può fare anche con l'anodarone, lo stesso come per le persone. Quando poi è stata defibrillata dopo qualche ora, Elsa inizia a stabilizzarsi. Però ovviamente in ecocardiografia vediamo che l'atrio era piccolo. Non so, vabbè, per chi sa come funziona, lo scompenso, se io ho un atrio molto grande, posso avere la fibrillazione atriale più o meno anche normale. Ma se l'atrio è piccolo, non è poi così normale diciamo che un paziente febrilli. Poi in un'amnesi c'aveva anche questa entropatia cronica. Queste sono le analisi nella fase acuta, quindi c'erano anche interessamento al epatico, le fruttosamine erano alti. Le fruttosamine le utilizziamo un po' come viene utilizzato l'emoglobina glicata, cioè quella che indica la glicazione. Glicazione vuol dire che quando il glucosio o il fruttosio o il galattosio si attaccano sulle proteine, come si attaccano sull'emoglobina, si attaccano su tutte le proteine. Poi i segnali acuti diciamo, con la proteina cirattiva. Allora, quando si stabilizza, l'abbiamo mandata a casa, dopo qualche giorno viene e facciamo questo test S-Drive. Ovviamente in anamnesi avevamo problemi intestinali cronici. Quindi io ho una lettura che possiamo dare all'S-Drive in questa maniera. Se io ho una resistenza possa interpretarla una disbiose intestinale severa, probabilmente a Elsa era anche una candida. Poi, quando mancano i minerali, possiamo parlare di monotonia nutrizionale. Ovviamente negli animali sono noi molto esagerati. I cani in gatti, la nostra alimentazione è estremamente esagerata. Cioè, ormai diamo quasi tutti i mangimi. Quindi voi immaginate, il mangimi raccoglie tutto quello di male che c'è nell'alimentazione. Cioè, alimentazione industrializzata. Se non è il primo, sicuramente il secondo problema di patologie croniche. utilizzo di grasso di origine vegetale, grassi polenzateri di origine vegetale. La seconda causa. La terza causa sono i carboidrati e soprattutto negli animali dove sono carnivori. Quindi, ovviamente, questi sono i nostri problemi molto esagerati. E questo è molto interessante vedere i cani e i gatti che vivono i nostri problemi, ma in modo molto più esagerato. Cioè, è interessante da un punto di vista, diciamo, scientifico. Non che è bello, brutto, però è interessante da un punto di vista scientifico. Quando c'è una carenza di aminoacidi, possiamo dire che magari questa è una carenza nutrizionale. non le mangia, no? Può essere enteropatia, proteine o disperdente. Se c'è l'infiammazione, la prima cosa che non vengono assorbite, le proteine. Non vengono assorbite, vengono perse, ovviamente con certi tipi di infiammazione. Oppure, sindrome nefrosica, può perderle a livello orinale. Queste sono le tre cause. Anteossidanti, carenza nutrizionale, aumento di produzione di radicali libere, stress ossidativo e quindi comunque qualcosa che dipende dai metocondri e dal sistema energetico. Vitamine, carenze nutrizionali, disbiose intestinale e polimorfismi. Allora, cosa si deve andare a cercare nel paziente cronico? Si deve andare a cercare, uno, le strutture subcellulari più importanti sono la membrana cellulare, il metocondrio, il genoma, l'epigenoma. I meccanismi subcellulari più importanti sono infiammazione cronica, insulino e resistenza. Allora, nella nostra epoca, per noi, credo che rappresenti più o meno il 70-80% delle cause di malattie, queste due, che poi uno porta all'altro. Stress ossidativo, glicazione, autofagia e mitilazione. Questi sono i meccanismi subcellulari più importanti. Come si può diagnosticar, cioè come si deve diagnosticare un paziente cronico? Le analisi tradizionali possono essere d'aiuto, però dobbiamo capire che nella maggior parte sono per il paziente acuto. Poi, la visita clinica, anamnesi. Ovviamente, S-Drive, molto utile. Quindi, è un test di diagnosi. Possiamo utilizzare tutto quello che abbiamo come diagnosi per immagine avanzata. Ecografia, risonanza, TAC, endoscopia. Tutte queste informazioni, poi vediamo come si possono utilizzare. Poi, ovviamente, ci sono tutti i nuovi test, dal microbiota all'analisi della proteomica, tutte le metabolite a livello intestinale, a livello urinario. Quindi, ci sono tantissimi test che possono essere utili. Ma la cosa più importante, credo, sono i primi, perché questi si incrociano, si possono utilizzare tutti insieme per cercare di aiutare il paziente. Allora, Elsa aveva questo quadro gastrointestinale. Quindi, espessimento della parete intestinale, provenienza della sottomucosa, rallentamento dello svuotamento, cioè tutti segnali di un'enteropatia tendenzialmente cronica. Questo intestino, ovviamente, queste sono informazioni, al mio parere, estremamente utili, perché questo, io non devo andare a scoprire che c'è l'ichigat. C'è là, punto. Questo colon è, praticamente, non posso avere dubbio, c'è un lichigat. Quindi, poi, decido quali sono, cosa voglio ottenere io, cosa voglio lavorare. Voglio cercare di capire perché ha febbrillato e come posso fare per far sì che questa febbrillazione non viene più. Senza ablazione, ovviamente, no? Quindi, le strutture subcellulari più importanti che volevo indagare sono il metocondrio e l'epigenoma e i meccanismi subcellulare e l'infiammazione cronica, stress oxidativo e glicazione e sostenere il sistema detox o il piano integrativo, piano alimentare, nutraceutica, tutte queste cose. Quindi, si parte sempre dall'asse intestino-cuore, ok? Che parte tutto dall'intestino, sempre dall'intestino. Tutte le malattie o partono da lì o comunque viene convolto l'intestino. In qualche modo è sempre convolto l'intestino. Quindi, quando abbiamo finito con l'ammiodarone, ovviamente, si poteva dare a vita l'ammiodarone. Invece, io ho cercato di trattare, piano piano ho iniziato a scendere con l'ammiodarone, non è mai tornata a febbrillare, risolto il problema gastrointestinale, poi non ha mai più febbrillato. Ovviamente, Silvia sa quanto spesso, questo è un grosso problema, anche nell'uomo, quando febbrillano, ciao, o ti mandano a fare l'ablazione, oppure, spesso, secondo me, basterebbe andare in questa direzione e molte ablazioni possono essere magari evitate. Allora, come si ragiona, diciamo? Intanto ci abbiamo, questi sono i proporsori della malattia, che sono uno spettro di cause. Abbiamo detto da stamattina tantissime cause. Tutti, tutti sono cause che possono influenzare i nostri metocondri, genoma, epigenoma, membrana cellulare e tutti questi meccanismi subcellulare. Come si può curare? Allora, con i farmaci, noi qua non possiamo fare niente. Perché con i farmaci non possiamo fare niente? Perché io, allora, questo è il metabolismo di una cellula. Io con un farmaco blocco o accelero uno di questi meccanismi. Ma inevitabilmente io vado ad alterare altri. Cioè non è possibile. Attraverso l'agopuntura, la socializzazione, la iperbarica, l'integrazione, l'attività sportiva, la chirioterapia, il digiuno. Qualsiasi cosa di questi, perché c'è chi lo sa usare meglio che peggio, ma tutti questi meccanismi, tutti questi, possono creare l'omiostasi che noi vogliamo. Cioè l'autoguarigione. Perché noi dobbiamo cercare sempre l'autoguarigione. Perché è inutile pensare che su quei meccanismi, veramente siamo così fenomeni da riuscire a, un giorno anche, con i farmaci a guarirli. A guarire, non a togliere i sintomi. Perché a togliere i sintomi, a salvare la vita, serve il farmaco. Perché se il mio paziente è ipoteso, se Elsa arriva senza essere defebbrillata, muore. Cioè la medicina non è che, c'è l'S-Drive lì e non mi serve a niente. Però se io, dopo che ho finito la defebbrillazione, dobbiamo poi pensare cosa avviene, perché ha febbrillato. E quindi puoi andare lì a cercare di risolvere il problema alla base. E sempre con l'autoguarigione. Perché il nostro organismo, lui, ha la sua resilienza, la capacità vitale, tutto quello che c'è, ha tutto lui. Noi dobbiamo solo sostenerlo. Lo possiamo sostenere con l'ossigeno, lo possiamo sostenere con quello che vogliamo, quello che sappiamo fare, ma comunque perché c'è l'autoguarigione. Allora Gaia, Gaia è un altro cane che arriva perché ha questo atteggiamento, no? Questo atteggiamento da prighiera, dolore addominale nella parte anteriore, diciamo. Comunque era sempre depressa, aveva vomito cronico, aveva tutti i sintomi gastrointestinali cronici. E c'aveva anche questa l'ecografia di Gaia, no? Questo è il stomaco intestino quadro compatibile con gastroenteropatia infermatoria, di grado moderato, da causa dell'instabilire fegato ridotto di volume. Questi sono gli acidi biliari urinari. Gli acidi biliari la bile viene prodotta dal fegato, finisce nel intestino, poi dall'intestino attraverso la vena porta ritorna al fegato. Quindi il ciclo è enteroepatico. Se la troviamo nelle urine, in questa concentrazione, vuol dire che c'è un'insufficienza epatica. In effetti, anche ecograficamente, Elsa aveva un problema epatico, perché il fegato era piccolo. Questa è l'estologia, perché ovviamente aveva una sintoma dell'estologia molto molto grave, però alla fine dice che c'è una displasia microvascolare, cioè a livello arteriovinoso non c'è una comunicazione a livello microvascolare. Ovviamente questa la possiamo vedere solo esterologicamente. Quindi questa poteva essere anche un problema congenito. Cioè questa non è solo... Allora, diciamo che nella maggior parte dei casi questo è un problema congenito. Però può essere anche acquisito, perché è quello che si vede che queste vasi non comunicano. Quindi certa infiammazione e l'infiammazione a livello vascolare inizia sempre a livello microvascolare. Tutte le patologie vascolari iniziano a livello microvascolare. Allora, questo è l'S-Drive di Elsa. Ovviamente sempre utilizzando... Allora, perché troviamo sempre minerali? Cioè, allora, tutte queste le carenze di minerali, e per forza devono avere carenze di minerali. Se le diamo la crocchetta per dieci anni, la stessa, o poi... Attenzione, ancora le cambiate, perché poi le viene la diarrea. Per forza le viene la diarrea. Dopo che gli ho detto tutto questo tempo non c'è più niente, non riesce più ad assorbire nient'altro. Cioè, ripeto, è veramente... Se noi vediamo l'alimentazione di cani e di gatti, i gatti, per esempio, i gatti iniziano a non mangiare per dire la carne o il pesce perché vogliono avere un mangime. Cioè, un gatto che non mangia il pesce c'è, deve essere da spavento. Un gatto che ha un diabete è una cosa... Cioè, un carnivoro che diventa diabetico. C'è una cosa assurda, no? Eppure sono patologie che ormai sono sempre più frequenti. E il cane, cioè, il cane se gli diamo un pochettino di zucchero una volta, non puoi più mangiare a casa qualche cosa con zucchero perché lo senti pure se sta dall'altra parte della casa ti viene che vuole qualsiasi cosa perché c'è dipendenza da zucchero, no? E quindi... Allora, questa è l'S Drive di Gaia che comunque sia, ripeto, senza andare a questi... cioè, uno per uno. Però, è un ragionamento... Perché S Drive cosa ci aiuta? Ci aiuta a decidere intanto l'asse su cui dobbiamo lavorare, ci aiuta quali sono i meccanismi, le strutture sociali su cui dobbiamo lavorare e ci aiuta anche a capire cosa fare perché ci aiuta a vedere se ci sono carenze delle proteine. Allora, è chiaro, anche lì dobbiamo vedere perché non le assorbe, perché non le diamo. Però ci aiuta tantissimo a decidere il nostro, diciamo, il nostro piano terapeutico. Queste sono la via, diciamo, l'asse intestino-fegato. Il fegato produce la bile. Ovviamente, la bile arriva all'interno intestinale che ha due funzioni. Una, proprio la selezione del microbiota. Una parte del lavoro della bile a livello intestinale è quella di fare selezionare certi tipi di batteri. Se il nostro asse intestino-fegato, se questo fegato non funziona bene, è chiaro che io ho problemi. Allora, bisogna vedere se i problemi intestinali hanno dato problema al fegato o il fegato che ha dato problema a livello intestinale. Ma non ce ne frega tanto se stiamo aiutando per migliorare le condizioni. In effetti Gaia bastata veramente cambiare l'alimentazione ed è un altro cane. Quattro anni di calvario non riusciva la diaria un giorno sì un giorno no vomito un giorno sì un giorno no poi cambiata l'alimentazione integrato qualche cosa è proprio un altro cane. Ti chiamano e ti dicono magari accontenta meno male un fegato così non ho bisogno di andare a vedere un fegato steatoseco non ho bisogno di dire che questo fegato che questo paziente dovrebbe avere problemi a livello gastrointestinale per forza ce l'ha se sia un uomo se sia un cane c'è il problema a livello gastrointestinale perché è un fegato intasato di grasso in questa maniera non può produrre la quantità di bile giusta non può funzionare bene non può detossificare come deve detossificare non può fare il suo lavoro a livello metabolico come lo fa quindi cosa devo ancora andare a cercare se non lavoro qua prima poi chiaro che dopo possiamo andare a vedere tutto quello che vogliamo ormai ci sono metabolite a livello urinario ci sono ormai 70 metabolite io c'è il test diciamo delle metabolite urinarie cioè lo amo però alla fine quando deve entrare nei particolari per quel paziente che non si è riuscito poi ancora a risolvere il problema ma se iniziamo a lavorare qua è chiaro che questo magari nel 80-90% dei casi risolviamo questo è insulino resistente si sia un cane si sia un gatto si sia ah insulino resistenza la posso già scrivere la posso già scrivere nel riferto questo paziente è insulino resistente sicuro non ho bisogno di andare a fare il test questo è già insulino resistente allora se inizia a fare questa aspetta allora se abbiamo questo fango biliare in questa maniera è chiaro che questo è una marmellata questo non scende dal coledoco quindi poi c'è infiammazione della colicisti e poi quello magari diventa poi i calcoli no? i calcoli e poi togliamo la colicisti va bene no? si può lavorare prima allora c'è tempo? allora Romeo Romeo è un cane che aveva le crisi epilettiche o le crisi semile epilettiche 5 minuti facciamo questo poi aveva molti problemi comportamentali si osulava stava sempre triste certe volte diciamo la padrona sempre molto molto preoccupata per lui perché è sempre triste non partecipava mai alla vita diciamo e quindi preoccupata andata da tutti gli cambiavano mangime no? cosa facciamo? cambiamo mangime per? bene cosa è cambiato? non è cambiato niente allora anche lui aveva le acidi biliari alti allora i cani di razza piccola possono avere una cosa che si chiama chant portosistemico soprattutto quando sono giovani cioè i vasi arrivano a livello diciamo tutti i vasi tutto il sangue si raccoglie nella vena porta entra dai visceri e si raccoglie e entra dentro il fegato e poi dal fegato devono vene sovraepatiche e vanno allora lo chant portosistemico quando un vaso si stacca e va dalla vena porta direttamente alla cava bypass al fegato ok questo è estremamente una patologia molto diffusa nei cani di piccolatalia soprattutto parboncini maltesi così via quindi dobbiamo quando troviamo questo esame ovviamente dobbiamo indagare se ce l'ha se può indagare con l'ecografia ovviamente non aveva nulla riferibile a questo chant però aveva tutto un quadro gastrointestinale cronico tutto cioè sempre patologie diciamo intestinali quindi le fanno la risonanza e le danno il chebra un farmaco per bloccare le crisi epilettiche inizia ad avere dei problemi gastrointestinali e quindi lo tolgono i problemi e sta molto male il gastrointestinale quindi me lo portano e le faccio il test S-Drive e inizio a lavorare attraverso il test sempre inizio a lavorare quindi sempre questo mio meccanismo che utilizzo poi inizio a dire vabbè ok inizio a lavorare sull'asse intestino cervello intestino fega su cervello ok insomma sono passate quattro mesi adesso Romeo non ha neanche una crisi epilettica non ha mai preso più il chebra e inizia a essere un cane più contento ovviamente cosa abbiamo fatto abbiamo solo lavorato a livello gastrointestinale abbiamo aggiustato la situazione gastrointestinale e poi Romeo è stato molto meglio e quindi se noi lavoriamo con al mio parere non cambia niente come si dovrebbe lavorare nelle persone non cambia niente tutte le patologie croniche si può lavorare tranquillamente dobbiamo decidere l'asse dobbiamo decidere quali sono le strutture i meccanismi sul cellulare che dobbiamo andare a lavorare e poi iniziare a fare attraverso tutto quello che abbiamo visto che sono tanti non è che una metodica che si possono utilizzare tutte queste metodi si possono utilizzare anche mentre stai facendo farmaci quindi nessuno ti impedisce di andare a cercare la causa della malattia cronica e di andare a ovviamente a risolvere il problema alla base insomma penso che i risultati oltretutto poi negli animali i risultati arrivano veramente molto presto perché basterebbe veramente cambiare l'alimentazione e cambia tutto come i bambini noi noi abbiamo noi abbiamo 100% dei cani e dei gatti hanno patologie gastrointestinali non 1 non 2 non 10 100 100% degli animali hanno patologie croniche a livello gastrointestinale quindi le patologie croniche cioè magari vabbè questo poi vediamo allora tutte queste patologie no cioè questo è un gatto in questa maniera cioè insomma queste patologie che sono di natura infiammatoria non sono di natura cioè non c'è infezione non c'è niente si poi vanno a cercare il calice virus ma che cosa c'entra questo è un problema immunomediato questi hanno infiammazione non hanno infezione questi pazienti quando lavori a livello intestinale lavori con l'alimentazione questi migliorano tutti questi vedete questa faucite questa faucite queste queste assente stino cute insomma queste situazioni per forza devono produrre patologie insomma va bene grazie grazie dottore grazie facciamo grazie 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 grazie